Da questo momento si apre il sitario sulla 22esima edizione di Tau Moda. I vincitori dei Tau Awards 2021 Cristiano Burani, Alessandro Enriquez, Gianluca Capannolo e Marco Bologna, Piero Piazzi, Timone Marchetti, Piero Lissoni, il Tau Award Ivan Shaw, Ludovica Casellati per la musica, il Tau Music Award. Quest'anno la nostra commissione lo ha assegnato alla rappresentante di lista Special Guest Nadege.